Siamo in compagnia del direttore sportivo del Chieti Michele Ciccone, ci avete provato in tutti i modi, è venuto fuori il secondo pareggio interno consecutivo sempre per 1-1 in un derby che soprattutto nel secondo tempo si è innervosito parecchio. Comunque eravate riusciti a segnare per primi, poi però c'è stato questo pareggio, insomma un po' di amare in bocca sicuramente. Sicuramente l'amare in bocca c'è rimasto, ma io ho visto una squadra oggi abbastanza determinata, una squadra vogliosa, una squadra che a tutti i costi voleva la vittoria. Ci eravamo quasi riusciti, poi è arrivato il pareggio e ce lo portiamo a casa. Al di là di questo, il Chieti ha avuto diverse occasioni, anche se non proprio limpidissime, è mancato sempre un po' l'ultimo passaggio o un po' di precisione lì davanti? Sì, ci sono stati alcuni episodi che la potevamo mettere dentro, però questo fa parte del calcio. Abbiamo tentato in tutti i modi per poter fare il secondo gol, poi per un motivo e per un altro non ci siamo riusciti. Però sono contentissimo dell'atteggiamento della squadra, per la determinazione che ci hanno messo, per la voglia, per l'abnegazione, lo spirito. Questi sono componenti che ci dobbiamo portare da qui alla fine, cercando di fare quanto più punti possibile e quando fare più risultati utili possibili. Anche oggi è un risultato utile, se vogliamo però questo secondo pareggio interno consecutivo vi toglie proprio dalla testa del girone. Non è successo nulla, no? Sicuramente siamo aggrappati tutti là, è un pareggio che ci può stare perché comunque noi abbiamo affrontato una signora squadra, una squadra abbastanza organizzata. Però io oggi ho visto un grande chieti in mezzo al campo, ho visto una squadra veramente con tanta determinazione, con tanta voglia di vincere. Noi c'eravamo quasi riusciti però purtroppo alla fine poi è arrivato questo pareggio e niente. Bisogna subito ricaricare le pieghe perché mercoledì alle 20.30 c'è questa trasferta a fermo. Sicuramente, noi andremo là per fare la nostra partita a viso aperto, cercheremo di portare a casa i tre punti e ci riusciamo. Sicuramente la determinazione e la voglia sarà quella di oggi contro il Teramo.